Nel 1996 la 3D Reans fa uscire Duke Nukem 3D, sicuramente uno dei più importanti e più coatti e cazzuti, spara tutto in prima persona. Vestiamo i panni nuovamente del Duca, dopo i fatti avvenuti in Duke Nukem 2. In questo caso la trama è ambientata in una Los Angeles praticamente quasi completamente distrutta e invasa dai mostri. Il nostro obiettivo? Fa carneficina, ammazzare tutti e fare una strage, cazzo. Allora, non ho scelto il livello assoluto più difficile perché non me lo ricordo, ma... Beh, allora sono costretto ad andarci abbastanza piano. Ok. Allora, per chi si ricorda, qua è possibile accedere ad un'area segreta, come avete visto. Questo non lo so preso in bocca, qua ci stanno a fare gli steroidi, del Duca, e qua si accede ad un'altra area che ci dà... ...il bello bazuchello, come si dice in gergo. E col bello bazuchello asfaltiamo il livello che stava qua dentro. ...il tempo c'era uno, adesso non c'è nessuno. C'è due. Mi ricordo tanto che c'era il porco. C'è due. Passiamo qua... ...il bastante, scusate, dalle fottute pareti. Allora c'era un altro, no? Ah, ok, giusto, qua c'era il... ...il potenziometro. Ehm, come lo prendo sto coso da qua, giustamente? Ci dà un 50. Che male non ci fa. Ci mostro, io morisco da... Oh, oh, attenzione! C2, mentre si è avvicinato manco... ...co fossi l'infame. Ok, ovviamente la nostra uscita sta qua. Guarda. C'era un altro? Non ricordo, non penso. Infatti non c'è più. Misuno. Allora, qua che abbiamo questo? Avevamo qua il porco, malefico. Qua un altro. Quello che tra l'altro non ha più... Attenzione, è sparito! Attenzione! Ok, da dove mi stai sparando te? Da qua? Ok. Carcio un bocca, perché fa sempre un bene per carcio un bocca. La scite! La scite te! Sì, se magari può morire, come la vedi? Tu muori. Qua mi pare che arriva qualcosa. Ok, lasciamo aperto così. Pieno di roba spinta, giustamente. Perché il gioco lo richiede. C2. Me lo... Me lo... Me lo dico. Me lo dico di questo. Ok. Spero che siete morti tutti quanti tra troce sofferenze. Non ho tempo per giocare con me. Non ho tempo per giocare con me. Ok, munizioni, munizioni. Qua sotto non ci vado per adesso. Che c'era qua? Una prega? No. Fermi tutti? Me so perso. Ah no, devo andare qua. Devo andare qua? Ah, i bagni. Caccia vostra. No. Sì, va bene. Cazzo lo fai? Qua mi pare che ce n'era uno. Oh, attenzione. Ok. Vabbè, giustamente ho creato panico. Ci mancherebbe pure che c'è qualcuno ancora vivo. Attenzione. Buono, 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 buono. 12 munizioni per il piompa. Sì, se magari dà una calmata, fatti invece diventai troppo. Magari è meglio, eh. Zia, manco che cazzo sta a fare? Spari come un pazzo. Qua che c'è? Ma finita te. Ok. Dov' stai? Dov' stai? Basta. Mamma mia, regà. Cazzo del bordello. Accendiamo un po' la luce. Vediamo a che punto stiamo. Calendario. Donne. Attenzione, gente che sì. Oh. Attenzione, per sbaglio ho ottenuto pure la mappa. Mori. Bastardo. Ma non puoi apparire dal nulla, maledetto. Cioè, non è che funziona così, eh, cazzo. Allora, scendiamo. Asci vostri. La fa finita, ti rompe le palle. Asci vostra, quanti siete? Non c'era il jetpacker qua? Ah. Ah. Cazzo, dov'era? Oh, santo Dio, che mi ricordo. Allora, c'è un tipo losco. Mi ricordo che c'era un jetpack spiccio qua. No, il jetpacker non ha accesso. E... Oh, oh. Ah, no. Forse è qui? Ah, qua c'è il teatro. Un po' che c'è. Perché ho detto teatro quando è un cinema, non si sa. Però vabbè. Qua forse c'è. Ci vostra. Sì, Fabri, datte la calmata. Sto sparando a qualsiasi cosa si muove. Allora, voglio... Che c'è qua? Attenzione. Ah, ok. No, io voglio col jetpack raggiungere qualsù. Where is it? Where is it? E che è? Se non lo sapete. Vabbè. Questo sta ansimando come un porco. Io penso che a luce dei fatti possiamo pure, no? Completare la missione, no? Come... Come... Come la vedete. Che? Che te sei sciolto? Che c'hai? Sì, fai complimenti da solo, tra l'altro. Ah, posso fare il super matto di accedere da... Sì, ecco un'altra cosa in bocca. È finita. Siamo impazziti. Mamma mia, quanto masa supera rischiata. Eh, non t'aspettavi che te piavo così. Dì la verità. Dì la verità, cazzo, che t'aspettavi. Eh, giustamente so chiuso fuori, va bene. Ma penso che vada bene anche così. E così si conclude Duke Nukem 3D. C'ho sempre quel segreto mancante. Vabbè, comunque sia. Questo era il gioco, il vero Duke all'azione. Quello recente, gli altri titoli che ci stanno. Lasciateli stare. Questa è una pietra migliare di videogiochi. Giocatelo. E niente ragazzi, bella.